Ah, la camera da vlog! Sono passato in ufficio per prendere a Ferri questa bellissima nuova camerina di Sony che appunto ha recensito lui negli ultimi giorni e di cui potete trovare appunto la recensione completa sulle nostre pagine. In questo momento tra l'altro non so come mi sentite ancora perché sto registrando letteralmente col microfono integrato della camera quindi poi andremo a migliorare un pochettino la qualità, però volevo farvi vedere appunto come si comporta già nel suo ambito di competizione ovvero i vlog. Ok, andiamo! Ciao Andre! Let's go! Non ho ancora il mio microfono ragazzi quindi mi dovete sopportare con questo microfono per il momento. Ora sono in macchina quindi bisognerebbe capire anche com'è il volume qui della voce. In realtà vabbè c'è il finestrino aperto quindi magari lo chiudo. Car vlog! Arrivati! Ci vediamo su! Che caratteristiche deve avere una fotocamera per vlogger? Pensate a tutti i vlogger che stanno su YouTube, pensate al loro format, a come registrano solitamente i video, che cosa può servire effettivamente a livello di fotocamera a un vlogger? Sicuramente il fatto di essere leggera e trasportabile, questo è fuori da ogni dubbio. Il fatto di potersi comportare bene in qualsiasi condizione di luminosità, la capacità di mettere a fuoco velocemente e di seguire il fuoco su un determinato personaggio, su un determinato soggetto, anche magari con spostamenti repentini durante appunto la ripresa del video, o nel caso in cui si voglia parlare di oggetti, la capacità di cambiare velocemente il fuoco da un oggetto all'altro, quindi con una certa rapidità e con una certa anche fluidità mettere a fuoco un oggetto piuttosto che una persona. Oltre al fatto che deve avere comunque una buona stabilità e una buona gestione anche del colore e dell'immagine nelle situazioni in cui magari cambia tanto quando c'è un'illuminazione più predominante o un'illuminazione meno predominante. Oltre ad avere comunque un audio di buon livello, la possibilità di avere un audio di buon livello, e perché no essere anche magari leggera e compatta. Queste sono più o meno tutte le caratteristiche che servono a un vlogger oggigiorno, e questa nuova Sony ZV1 le include per la maggior parte. Penso sia intuibile il fatto che mi sto muovendo, sto cambiando inquadratura e posizione di continuo per mostrarvi le effettive capacità di questa nuova minicamera Sony. ZV1 è decisamente compatta, pesa meno di 300 grammi in realtà, ma mantiene comunque un buon grip per, diciamo, riuscire ad impugnarla sia con la mano destra che con la sinistra per autoriprenderci. L'uso di un cavalletto, seppur piccolo, è sicuramente straconsigliato, e anche Sony stessa mette a disposizione un gadget che in questo caso noi abbiamo trovato veramente spettacolare, anzi, ve lo mostro subito. Di fatto è un piccolo treppiede che può essere facilmente montato sulla ZV1 e che vi permette anche di collegarsi in Bluetooth alla camera per poterla gestire un po' come vi va. Con pochi comandi in realtà, perché se vedete bene, io adesso sto spremendo lo zoom, ci sono giusto il comando per avviare video, scattare foto, accedere appunto a un tasto funzione Sony, oltre a una piccola levetta di blocco. Per il resto però è davvero molto semplice ed è molto facile da montare e posizionare anche in giro. Assolutamente consigliatissimo. Il dubbio chiaramente per questo accessorio è quale sarà il prezzo. Lo schermo LCD rappresenta una delle più grandi novità per Sony perlomeno, perché è ancorato sulla parte laterale della camera, ovviamente posteriore, e può essere aperto sul lato e girato di 180 gradi. Per potersi vedere, io di fatto mi sto vedendo appunto con lo schermo LCD posizionato, in questo caso girato accanto alla camera, ma ve lo farò vedere meglio sicuramente. Caratteristica che abbiamo già visto in passato su tanti modelli che abbiamo già tantissimo desiderato sulle camere Sony, proprio perché appunto sempre di ottima qualità per quanto riguarda l'immagine, ma con questa piccola mancanza che c'è sempre stata più o meno, in questo caso finalmente abbiamo anche uno schermo rigirabile. Punto magari non fondamentale per tutti, ma che vi giuro per una camera da vlog fa tutta la differenza del mondo. Il corpo è davvero piccolo, e ve lo dicevo anche in introduzione, oltre a essere molto leggero e lascia spazio, oltre a quello che abbiamo appena detto, quindi il display rigirabile, ha solo pochi tasti in realtà. Una rotella per appunto la selezione e la navigazione all'interno del menu, i classici tasti attorno alla rotella, quindi la funzione, il menu, il tasto per accedere appunto ai multimedia, quindi alle foto e ai video che abbiamo registrato, un tasto funzione anch'esso che però appunto serve di default per cancellare, quindi con appunto l'icona del cestino, nella parte superiore invece abbiamo un tasto di on off, un tasto di modalità, un tasto di scatto, uno di registrazione, il più prominente diciamo, il più facile anche da premere nel momento in cui impugnate la camera con una mano sola, un ulteriore tasto funzione a fianco alla levetta per lo zoom. Comodissimo in questo caso, sempre parlando di ambito vlog, è il tasto appunto funzione che è dedicato all'attivazione o disattivazione del bokeh, in questo caso è quello che vi dicevo poco fa posizionato nella parte superiore della camera, a fianco alla levetta dello zoom, che vi permette anche mentre registrate di attivare o disattivare il bokeh. Nella fattispecie non fa niente che non potremo fare con le impostazioni manuali, quindi grazie all'apertura dell'obiettivo, però di fatto averlo e poterlo attivare con un click rende il tutto molto più comodo, anche perché alla fine vi ritroverete a utilizzarlo praticamente spessissimo se fate vlog in generale. La connettività pecca solo in un punto in realtà, perché sul corpo macchina abbiamo, oltre appunto a quei tasti che vi ho appena descritto, nella parte superiore una griglia che nasconde dei microfoni direzionali, un spazio per l'ancoraggio di microfoni, di luci piccoline per migliorare appunto la qualità della ripresa, mentre sull'altro lato, opposto a quello dove al momento io vedo lo schermo, dove potrete rigirare lo schermo, ci sono tre porte in particolare, un jack classico da 3.5, una micro usb e una micro hdmi, ed è proprio la micro usb il punto a sfavore, perché una camera nuova come questa ci saremmo aspettati comunque l'adozione dell'usb-c come standard, però di fatto funziona alla grande anche la micro usb per tutte le applicazioni, sia il passaggio dati, sia la ricarica, perché potrete ricaricare la macchina anche tramite appunto alimentazione micro usb, oltre a poterla alimentare nel momento in cui riprendete tramite un power bank o quello che volete. L'ottica non è sostituibile, quindi avrete un solo obiettivo, mettetela così, che appunto è incorporato nella macchinina Sony, ed è in particolare un 24-70 mm con apertura da 1.8 a 2.8, e un fattore di zoom di 2.7x. Altra chicca carina che magari vi farò vedere nelle riprese è che quando registrate di fatto sopra il sensore, sulla parte diciamo che voi vedete alla sinistra del sensore, c'è un piccolo led rosso che si accende e rimane acceso un po' come segnalarvi appunto il fatto che state effettivamente registrando, mentre quando smettete chiaramente si spegne. Un'indicazione visiva semplice che però diciamo non ritroviamo in tutte le camere, è in particolare così evidente nonostante non sia ingombrante diciamo. E ultimi due elementi sono il comparto batteria e lo comparto SD, che si trovano esattamente nello stesso vano come spesso succede su camere compatte, come questa in generale. In particolare il vano sta nella parte sotto diciamo della camera, nella parte inferiore, e nel momento in cui avete attaccato un cavalletto come nel mio caso non potrete accedervi, perché è proprio accanto alla filettatura apposta per un treppiede. Di fatto le dimensioni della batteria sono molto compatte, ed è un modello diciamo da 1240 mAh, che sono effettivamente pochi, ma per le dimensioni stesse della batteria non si poteva fare probabilmente tanto meglio in questo senso. Ed è forse uno dei principali difetti di questa camera, l'autonomia non è esagerata, mettiamola così. Per quanto riguarda l'autofocus è molto molto veloce, ha circa 315 punti di fuoco, e come avete visto anche nell'esempio che vi ho fatto poco fa è in grado di tracciare perfettamente la faccia, gli occhi, il riconoscimento appunto degli occhi e del viso, e soprattutto presenta un paio di modalità interessanti, a parte essere davvero molto veloce a mettere a fuoco con i cambi repentini di movimento, avendo modalità standard e modalità veloce appunto a seconda dell'utilizzo che ne fate per mettere a fuoco più o meno velocemente, appunto se fate magari video in movimento, fate video sportivi di questo tipo, abilitare un fuoco veloce può sicuramente aiutarvi in questo senso. Ma anche il riconoscimento del viso e degli occhi è molto efficace, perché se non attivate la modalità presentazione, lui comunque mantiene a fuoco quello che vede quando riconosce degli occhi o un viso, nonostante l'oggetto che io sto mettendo vicino sia veramente molto vicino, ma finché lui è in grado di riconoscere il mio occhio e il mio volto non lo metterà a fuoco. Se invece copro, bam! Questa modalità può essere facilmente interrotta tramite il tasto funzione che normalmente nella parte posteriore riporta l'icona del cestino, che appunto come detto è anche un tasto funzione, attivando così la modalità presentazione, ovvero la messa a fuoco rapida che non include più il riconoscimento del viso, non include più appunto la messa a fuoco con il riconoscimento degli occhi e del viso, ma funziona più a zona, quindi in questo caso sono di fatto a fuoco io, se già avvicino una mano va a fuoco la mia mano. Se metto un oggetto di fronte alla mia faccia mette a fuoco l'oggetto, proprio fatto per mostrare prodotti più facilmente e con un fuoco molto più rapido. Fico! L'unico punto in cui il fuoco viene messo veramente in difficoltà è quando c'è poca illuminazione, ambito in cui però chiaramente lui non riesce bene a mettere a fuoco quelli che sono gli oggetti che gli passano davanti e ovviamente è anche un ambito in cui tendenzialmente non si registrano video. L'illuminazione è fondamentale nei video. Per quanto riguarda i formati, riesce a registrare video fino a risoluzione 4K a 100 Mbps e non manca anche una funzione HFR per registrare immagini a rallentatore fino a 960 fps. E grazie a un sistema ottico elettronico è possibile attivare anche una stabilizzazione dell'immagine. Direi fondamentale per quanto riguarda una camera per vlogger perché appunto si è spesso in movimento, ci si muove appunto camminando o comunque anche magari correndo nel caso in cui si voglia fare qualche scenetta simpatica o a seconda dell'ambito che trattiate appunto su YouTube o su vari altri social, però la stabilizzazione in questo caso per macchine di questo tipo è fondamentale. E in questa ZV-1 è davvero ben realizzata. Io vi sto sbrodolando addosso informazioni, chiaramente su questa camera proprio a nastro, però di fatto sono presenti veramente un sacco di funzionalità e non manca anche un, diciamo, algoritmo di ottimizzazione dell'esposizione per mantenere sempre i colori della pelle con toni ben chiari ed illuminati. Quindi lui a seconda dell'esposizione, a seconda della luce ambientale, permetterà appunto di ottimizzare, rilevando il volto, i colori e i toni della pelle. L'unico ambito in cui fa un po' strano è quando l'illuminazione è troppa. In quel caso la pelle riesce abbastanza bene ad essere illuminata a discapito di tutto quello che c'è in sfondo, che viene leggermente bruciato in quel caso. Ora io ho ascoltato un po' come vengono le riprese con l'audio integrato della camera e non è male, diciamo, per quello che sono abituato io a livello di microfoni interni alle camere, non si comporta affatto male in realtà, né all'interno e né all'esterno. Ovvio, se volete una qualità audio di ottimo livello e siete alla ricerca appunto di una qualità sia immagine che video appunto alta, dovrete comunque dotarvi di un microfono esterno, come quello che sto utilizzando io in questo momento. Ma nel caso in cui appunto non puntaste al top, sappiate che già i tre microfoni inclusi, direzionali, sono di ottimo livello. Insomma, se siete arrivati a questo punto, non vi sorprenderà sapere che questo modello in particolare di Sony ci è piaciuto moltissimo. ZV1 è disponibile a prezzo consigliato 850 euro, il che fa impallidire tanti altri modelli di questa categoria che mirano appunto magari ai vlogger proprio, quindi per comodità, ergonomia, leggerezza, qualità dell'immagine, eccetera eccetera, come ad esempio l'RX100, quindi rendono tutti quegli altri modelli davvero difficilmente preferibili a questa. Le immagini sono belle e nitide, il fuoco è veloce e preciso anche nelle condizioni magari un po' più difficili. C'è l'ottimizzazione dei colori della pelle, c'è la possibilità di effettuare appunto una modalità showcase in cui mostrate prodotti, il bokeh che si applica in un tocco tramite il tasto funzione, ci sono tutte le funzioni di cui vi ho parlato e le immagini che vi ho mostrato, perché di fatto io quello che ho provato a fare in questo video è farvi vedere quali sono le potenzialità della camera usandola per registrare la recensione. oltre al fatto che davvero utilizzata con il suo treppiedi, il suo tripod che si collega appunto in bluetooth direttamente Sony, quindi ribadisco non sappiamo quanto costerà, molto probabilmente si assesterà tra i 100 e i 200 euro senza troppa difficoltà, ma vi assicuro che se la utilizzate con quello è tutta un'altra vita. Sia per il grip che dà, sia per le funzionalità che sono facilmente riconducibili appunto al pollice della mano con cui la state tenendo, ha la possibilità di applicare appunto un treppiede, perché di fatto io sto usando quello per reggerla in questo momento. Insomma, non mi dilungo oltre, è veramente figo. Porta con sé alcuni difetti delle macchine Sony in generale. In primis, in realtà il difetto principale è probabilmente la dimensione della batteria, che non rende possibili grandi registrazioni per lungo tempo. Tra l'altro, ve lo ricordo, non ve l'ho detto durante il video, però di default è impostata come limite massimo di registrazione a 5 minuti per salvaguardare, diciamo, le temperature. In realtà non abbiamo mai avuto problemi di temperature e abbiamo appunto sbloccato queste impostazioni da menu. E proprio il menu è uno dei, diciamo, difetti che sono ancora migliorabili per quanto riguarda le macchine Sony in questo senso. La problematica legata alla batteria è risolvibile, come abbiamo detto all'inizio, attaccando un power bank tramite micro USB. E la micro USB è uno dei piccoli difetti. Oltre al fatto che, come per le altre Sony, il touchscreen del display è ancora limitato solo alla messa a fuoco, ma sono tutti difetti che, a confronto dei pregi che vi abbiamo appunto elencato per tutto questo video, impallidiscono in un certo senso, soprattutto visto il prezzo. Io ho cercato, ragazzi, di condensare il più possibile tutta la recensione in pochi minuti, davvero, e spero di esserci riuscito abbastanza bene, ma voi fatemelo sapere nei commenti assolutamente, e io ovviamente qua su, nelle schede, vi lascio anche il link alla recensione completa del nostro ferry, che ha scritto appunto su Tom Sarder. La trovate tranquillamente cliccando nel link qua su, nelle schede. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa camera. Se ne avete mai avuto bisogno, avete mai avuto intenzione di iniziare a intraprendere questa carriera, tra virgolette, o se già lo state facendo, fatemi sapere tutto quello che vi pare qua sotto, nei commenti, e noi ci vediamo, come al solito, nei prossimi giorni, in tanti altri video ancora. Grazie a tutti.